Uff, ho appena finito di vedere Survivor Series e l'evento è stato proprio brutto. C'è qualcosa che si salva, però il giudizio è decisamente negativo. Io spero che WWE non sia contenta dello spettacolo che ha offerto. I lottatori non sono stati aiutati, perché il concept delle Survivor Series è vecchio. Vedere dei match dove c'è in paio la supremazia dei brand senza storie incrociate che non possono esserci non genera emozioni. E in più è stata scelta in molte circostanze una via pavida, una strada da codardi per giustificare determinate scelte. E se accadesse di tanto in tanto uno farebbe anche spalluce e direbbe vabbè c'era una necessità, ma non è la prima volta. Che si entra in questo loop. E durante l'analisi incontro per incontro capirete meglio di cosa sto parlando. Beh, ho preso un bel po' di appunti, eh. Spero di riuscire a ricordarmi tutto. Fatto sta che... È mancato il pathos. È mancata quella scintilla, quel senso di trasporto. Durante tutto l'evento, indipendentemente dai match, forse a parte il primo. Che invece questo fuoco io ce l'ho visto. Ma partiamo ovviamente in ordine cronologico dall'inizio. E stavolta devo inserire nella review anche il filmato introduttivo. Il filmato introduttivo mi ha fatto mettere le mani nei capelli. Io mi aspetto un filmato introduttivo che mi gasi, come una canzone di Epic Metal. Che mi faccia saltare, che mi faccia dire arrivano i vichinghi. Arriva il divertimento, botte da orbi, esplosioni. E invece mi trovo un filmato introduttivo basato sul parallelismo tra le Survivor Series e il nuovo film di The Rock, Red Notice, per Netflix. E metà di quel filmato è su questo tema. Posso dire che già lì ho iniziato ad avere dei sospetti. Ho iniziato a sentire qualcosa che mi rotolava nello stomaco. Come a dire, NCS, non ci siamo. C'è qualcosa di negativo, di storto, che sta per verificarsi. E ahimè, questo è ciò che è accaduto. Allora, lo show è stato riempito come un panino imbottito di rimandi a The Rock. È vero, erano i 25 anni di festa, di ricorrenza, dal suo debutto. E quindi è stato anche piacevole rivedere alcune delle fasi salienti della carriera di questo grande personaggio. Ma la domanda è perché? Cioè perché, ora, il film è una pubblicità pagata. Ma perché dedicare, tra virgolette, a questa ricorrenza, lo show, quando The Rock neanche c'è? Quando The Rock non ha inviato neanche un filmato, un qualcosa. Ehi figata, grazie! Volete sapere i momenti più magici di The Rock? E tira giù, boh, non so, un elenchino, qualcosa. Niente. Ma The Rock è stata una presenza che ha aleggiato costantemente sulla Kermess. Sia per l'uovo di Cleopatra, che Vince McMahon fa vedere nel suo ufficio e dice che vale 100 milioni di dollari. Lo dice in faccia a Roman Reigns, dice, me l'ha regalato tuo cugino. Questo oggetto fa parte del film di The Rock su Netflix. Poi quest'uovo viene rubato. E allora tutto il roster di Raw e di SmackDown viene convocato per la prossima puntata di Raw perché sono tutti sospettati. Boh, magari ne uscirà una storia. Poi Roman Reigns nel main event esegue la Rock Bottom. Poi durante lo show ci sono altri rimandi, sempre a The Rock. Allora, mi state mettendo nelle orecchie che The Rock farà qualcosa con voi. È vero o no? Se è vero, vabbè, aspettiamo. Ma c'era bisogno di tutto questo? Oltre, ovviamente, alla sponsorship pubblicitaria? Secondo me, no. Mi state dicendo, fregatene, fottetene di quello che c'è adesso. Non importa, c'è The Rock, forse. E se non c'è, pazienza. Dai, c'è il suo film che lo sostituisce. Non lo so. Io l'ho sentito, l'ho percepito troppo ridontante. Questa presenza, sbarra, assenza di The Rock, per la sua ricorrenza, era invadente. L'Undertaker, c'era la pandemia, comunque si è presentato, ha fatto la sua passerella, qualcuno l'ha criticata. Ci può stare, però c'era. E The Rock? E The Rock è a fare le sue cose, è natante, nessuno gliene fa una colpa, anzi, buon per lui. Però, ecco, tutto il film rouge dello show ha avuto un che di rocchesco, quando di The Rock non sappiamo se farà qualcosa con WWE e ne sappiamo se tutto ciò è stato giusto un... far vedere che il personaggio più pagato e più famoso di Hollywood ha avuto le sue origini qui. Quindi una cosa quasi unanista, ma che termina in questo contesto. Detto ciò, andiamo ai match. Charlotte contro Becky Lynch, secondo me, si gioca la palma del migliore della serata insieme al main event. Allora, le due ragazze sono entrate nel ring con voglia di fare, con una grande spinta. Abbiamo visto la regina nera, che adesso vi mostro, Charlotte Flair. E il diavolo rosso, Becky Lynch. Che non ho capito questo costume, se era un rimando, boh, che ne so, a Scarlett, della Marvel, oppure a qualche altro personaggio. Beh, insomma, comunque un abito di scena per Becky molto, molto rivelatorio, che mostra il suo impegno, che non è mai venuto meno durante questi mesi dopo la maternità. E l'inizio è stato tosto, perché le due hanno fatto sembrare che ci fosse della vera animosità. Hanno affondato molto i colpi e lo storytelling della sfida è stato questo. Cioè, il seguire la storyline, ovvero ci disprezziamo, ci odiamo, vogliamo farci del male. Non sempre sono riuscite a tenere alta la palizzata, perché in alcune sequenze si è visto che una aspettava l'altra, però, insomma, stiamo parlando di wrestling, di buona la prima. Quindi c'è poco da criticare. E l'incontro ci ha raccontato proprio la insopportabilità dell'una verso l'altra. Quest'atmosfera sono riuscite per buona parte dall'incontro a reggerla, e devo ammettere che forse era meglio bucare la contesa con un tempo più breve, puntando proprio su questa intensità guerriera, con delle azioni anche più sporche, meno riuscite, che mantenessero attiva la sospensione dell'incredulità. Perché, ripeto, poi in alcuni frangenti o in alcune mosse aeree si vede che una aspetta l'altra, o che è lì per fargli da base, per raccoglierla e prenderla. Ciò detto, questo mantenimento della linea narrativa e anche la grande preparazione che le due hanno dato al match, perché certe sequenze non te le inventi, beh, per me questo vale un grande apprezzamento. Quindi, non sono entrate nel quadrato come due sprovvedute, anzi, è successo di tutto lì dentro. E Becky Lynch, che nelle interviste diceva non so se la magia si azionerà perché Charlotte non vuole collaborare, pensa ai fattacci suoi, e quando è così non sai mai bene cosa può capitare. Beh, in realtà la magia, per buona parte della contesa, si è innescata. C'è poi il finale, un finale dove Becky, che è stata lungamente tifata durante il match, anche se c'è stato un coro Let's Go Becky, Becky Sacks, di signana memoria. Ecco, dicevo, poi alla fine Becky vince, ma vince in quella maniera codarda, tipica di questi scontri, dove WWE ha poco coraggio, perché Charlotte tenta di rubare attaccandosi ad una corda durante lo schienamento, l'arbitro la sgama, Becky fa un ribaltamento, si attacca lei, l'arbitro non vede, quindi vince da Hill per prendersi un pop da face. Io lo ripeto, Becky Lynch ha un problema, non ce l'ha lei, per lei è tutto grasso che cola, ma la WWE ha un problema, ovvero ha una campionessa a Rowe che copre tutto lo spettro emozionale e sarà difficile trovarle un'avversaria che possa essere atleticamente, ma soprattutto emotivamente, come dire, superiore, o emotivamente alla pari. Atleticamente magari la si trova, c'è Bianca Belero, magari Rhea Ripley, ma capace di suscitare una reazione forte a Rowe al momento, come Becky, non c'è nessuno. Il finale ricorda un po' quello di Crown Jewel, dove, insomma, anche lì, la si fa franca con degli appoggi non visti dall'arbitro. Ha vinto la più forte? Boh, non lo sappiamo, perché rimane aperto il panel delle recriminazioni. Quindi, prima scelta, comprensibile, nessuna delle due probabilmente voleva una sconfitta pulita, si è cercata la strada meno dolorosa. Comunque, bel match. Bel match, lo ribadisco, l'impegno, la preparazione, le due si sono lungamente parlate, di sicuro, per ore e ore, per mettere insieme questa battaglia, meritano una medaglia al petto. Quindi, ben fatto, brave, peccato che, diciamo, la resa dei conti viene rimandata, forse, a data da destinarsi. una dirà ho vinto io, l'altra dirà mi ha rubato, ha fregato, non è vero, e quindi siamo al punto di partenza. Andiamo al match 5 contro 5 maschile, qui ho preso un po' di appunti, devo dire che mi è piaciuto poco. Allora, Owens, che si fa contare fuori all'inizio, dopo aver litigato con Seth Rollins, ma soprattutto con Seth Rollins, ma anche con gli altri, su chi debba partire, è una delle poche cose coerenti che ho trovato nella sfida. Owens ha un nuovo personaggio, se ne sbatte, se ne frega, difendere, rappresentare Row, non gli interessa, e quindi se ne va via. Lo show rosso parte dunque con un uomo in meno, e apparentemente in grande svantaggio. Ora, io non vi faccio la cronostoria dell'incontro, vi dico quello che mi ha esaltato e quello no, e quello che non l'ha fatto, e ad esaltarmi è stata poca roba, perché il wrestling in questi match il più delle volte, anche se vedete degli highlights fotografici che sembrano fighi, il match, cioè, le mosse, la narrazione, il wrestling in questi incontri è spesso modesto, ma non è colpa dei lottatori, è colpa della struttura dell'incontro, perché tutti devono avere un momento di gloria, tutti devono fare qualcosa nel ring, tutti devono lasciare il segno, i tempi vanno divisi e condivisi, quindi è normale che gioco forza ci sia un'azione molto spezzettata, e il fatto che non ci fosse niente in paglio, questo ha sicuramente peggiorato le cose, ma la cosa peggiore in assoluto è proprio quello di cui vi dicevo all'inizio del video, cioè, lo scarso coraggio della WWE, mi metti nello show Drew McIntyre e Bobby Lashley? Beh, uno dei motivi di interesse dello show è dire, vediamo quale atleta eliminerà e come queste due superpotenze, e allora che fai? Li fai eliminare insieme l'uno contro l'altro con un doppio count out, con l'arbitro che improvvisamente zelante stavolta arriva al 10 dopo che in altre sfide lo stesso arbitro permette ad atleti non in questo pay per view ma in altri di star fuori dal ring tutto il tempo che vogliono. Ecco, queste sono le cose che a me le fanno girare. Perché per preservare ovviamente lo status, l'immagine di McIntyre e Bobby Lashley hai scelto la strada più facile, hai scelto la strada più semplice, hai scelto la strada meno piacevole per i fan, hai scelto la strada che fa maggiormente incazzare il pubblico. Mi hai tolto parte dello spettacolo con andando a selezionare una cosa che una strada, una scorciatoia che lascia l'amaro in bocca, che lascia l'amaro in bocca e che ti fa dire ma allora perché li hai messi dentro? infatti qua abbiamo il momento in cui Seth Rollins dice ciao ciao McIntyre te ne devi andare. Allora io ci ho visto in questo incontro una discreta vetrina per Austin Theory che è arrivato quasi alla fine e c'è stato anche forse un regalo per i suoi tanti anni di abnegazione c'è stato anche un bel regalo a Jeff Hardy che è stato l'ultimo a cadere per la sua squadra. Ha avuto anche delle belle mosse e poi alla fine Seth Rollins lo ha finito con lo stomp ed è rimasto l'unico sopravvissuto. Quindi Seth Rollins che ha perso il match decisivo della rivalità con Edge ora è lanciatissimo verso il titolo di Raw mentre Edge che vedeva in Seth Rollins l'unico ostacolo che lo separava da sé e una cintura massima dopo averlo battuto a Ground Jewel è sparito e si vede che la cintura non gli interessa più così tanto così come gli interessava prima. Ma al di là di questa considerazione banale l'incontro a me ha detto poco. Non diniego l'impegno dei lottatori però ho visto proprio la vecchiezza del format in questo match e l'ho vista ancora di più in quello femminile anzi lì è molto peggio ok però qui le cose vanno riformate qui bisogna mettere in paio dei premi chiari e lo show deve essere proprio rivisto in toto andiamo alla battle royale a 25 uomini in onore di The Rock allora prima cosa gli atleti con le casacche o vince un roster e allora chi ha la stessa casacca è alleato e avrebbe un senso o vince un singolo e allora fuori dalle palle queste casacche che non servono a niente cioè avere queste casacche è vecchiume ripeto se la vittoria non è del brand ma è del singolo e infatti durante la sfida si sono eliminati ripetutamente componenti dello stesso roster la cosa che più mi ha entristito è la marchetta a pizza con gli strip profits eccoli qua che portano le pizze il triple threat box ai telecronisti qua gliele offrono la pizza rimane lì a bordo ring R-Truth va addirittura a prenderla la coinvolge la porta nel ring la offre a Homo che la rifiuta la prende allora Otis se la mangia ora io sono per il wrestling comic qui ovviamente la marchetta non è stata invadente come l'incontro con i Lamberjack e gli zombie però posso dire che si può fare a meno di queste robe cioè il match è sembrato un pretesto per mostrare la pizza più che un tributo a The Rock alla fine le azioni si sono susseguite velocemente G-Stiles praticamente è rimasto fuori dal ring tutto il tempo e ha certificato la vittoria di Homo con uno dei momenti forse uno dei pochi che hanno avuto un senso all'interno della sfida parlo a livello narrativo che è quello che state vedendo con Sami Zayn che è rimasto da solo a rappresentare SmackDown insieme a Cesaro e a Ricochet lui prova a serrare i ranghi i suoi amici però lo colpiscono e permettono agli Strip Profits di buttarlo fuori per il resto niente Homo la Bud Spencer tiene a bada a quattro atleti gli elimina uno dopo l'altro e chiude la Battle Royale come assoluto vincitore portato in trionfo anche da E.J. Stiles in realtà ha vinto la pizza visto che l'hanno mostrata anche alla fine gli Strip Profits e a proposito di pubblicità insomma vi voglio ricordare molto brevemente che c'è la mia pagina e la mia vetrina su Amazon qui ho preparato alcune mini sezioni con cose che vi suggerisco ad esempio i libri di wrestling che non sono male questi secondo me sono dei libri a parte uno dei miei tutti in inglese che ogni fan dovrebbe avere se acquistate qualcosa di queste vetrine a me arriva una piccola commissione ma in realtà qualsiasi cosa acquistate su Amazon ed è la settimana del Black Friday partendo da qui quindi iniziando la ricerca da qua sopra che so l'inchiostro della stampante un libro un fumetto un vestito un videogame qualunque cosa acquistiate partendo da qui mettendola da qui nel carrello a voi costa identica quanto prima non c'è nessun sovrapprezzo ma una piccola commissione arriva a me e non va ad Amazon quindi se volete sostenere la mia proposta su internet questo non vi costa niente per cortesia tenetelo presente il link lo trovate nella descrizione del video ma è molto facile amazon.it slash shop slash micheleposa andiamo avanti archebro contro usos è il classico match a squadre della wb moderna che ha messo in campo tutte le fasi di un bel tag team match quindi lo shine dei face gli heal che passano in controllo il face in peril cioè il buono in pericolo che viene isolato dai malvagi gli usos l'hanno fatto almeno in un paio di circostanze il comeback falso il false come back del buono il come back giusto altri false come back e poi una bella sequenza finale con un archeio di randy horton francamente un po' prevedibile perché l'abbiamo vista in tante salse con lui che atterra uno che salta dal paletto quindi un finale un po' telefonato ma tutto sommato un match per chi ama questa tipologia di battaglia frenetica frizzante raramente statica beh direi che hanno fatto il loro quindi un match accettabile per certi versi piacevoli non fuori dall'ordinarietà però non fuori dall'ordinarietà il pubblico qui inizia a dare segnali di stanchezza ho notato che non lo so forse si aspettavano anche loro qualcosa di diverso ma i tifosi si sono un po' estraniati dalla battaglia e qui arriviamo al pezzo debole della serata il 5 contro 5 femminile anche qua non vi faccio la cronaca di tutto quello che è successo se avete visto l'evento lo sapete ora Carmella viene eliminata praticamente subito in maniera comica visto che le estetiste non sono riuscite a metterle la maschera ci prova Zelina Vega Ria Ripley si innervosisce e permette a Tony Storm di metterla giù ecco qua c'è la sequenza fotografica e salutiamo quasi subito Carmella ora Tony Storm ha iniziato il match per la sua squadra probabilmente WB si aspettava che il pubblico la incitasse che volesse vederla combattere invece lei Shozzi e Liv Morgan quando sono entrate nel ring almeno dal punto di vista vocale dei presenti non hanno lasciato il segno e anche questo incontro come l'altro 5 contro 5 a me ha trasmesso poche emozioni poco coinvolgimento ma ripeto al di là delle prove dei protagonisti le ragazze sono state pessime rispetto agli uomini che già non hanno brillato è il format lo ripeto è vecchio su River Series è superato lo diceva Vince McMahon pensate in un'intervista anzi in una conferenza con gli azionisti l'ho trovato su una rivista se non ricordo male nel 2010 diceva forse andrebbe un po' rivisto siamo nel 2021 rivediamolo questo format perché non aiuti neanche i lottatori a dare il massimo e poi narrativamente cosa c'è stato qui dentro non lo so i tifosi sono sembrati interessati solo a Bianca Belair e a Sasha Banks e forse non a caso annusando sia questo fatto e sia l'incontrovertibile verità che Sasha e Bianca erano le due forse con maggior predisposizione a tenere il campo ecco forse la maggior parte del testa a testa almeno così sembrava guardando la sfida non l'ho cronometrata ma la maggior parte del tempo singolare è stato dedicato a loro due sia con altre avversarie ma sia soprattutto l'una di fronte all'altra anche se qui non ne abbiamo una chiara testimonianza durante le foto che sto facendo andare avanti allora Tony Storm ha ottenuto due eliminazioni sempre però sono sembrate casuali più frutto delle circostanze che della sua capacità o del suo impegno Liv Morgan ha ottenuto un'eliminazione su Tony Storm però è uscita poi quasi immediatamente quasi subito dopo senza mai sembrare davvero competitiva e questi sono due campanelli d'allarme che suonano pesanti perché se le possibili prime sfidanti non è detto che Tony Storm abbia un match titolato Charlotte ha detto avrai un match ma la cintura non la meriti però se le due possibili prime sfidanti in un incontro del genere escono quando sono ancora presenti così tante altre ragazze senza prestazioni di un certo peso e non le stai assolutamente aiutando come non ti aiuta questa roba qui allora innanzitutto Sasha era già stata intralciata da Shotzi ma inspiegabilmente non si è vendicata anzi ci sono stati dei momenti in cui si sono anche date il cambio non plateale non 5 magari Shotzi gli dava un tocco alla spalla entrava lei però insomma una come la Banks che è vendicativa e tu ti aspetti che mi fai uno sgarro e io te la faccio pagare subito ma poi con Smackdown nettamente in vantaggio Shotzi Shanna Basler e Natalia improvvisamente non si sa perché decidono che ne hanno piene le scatole di Sasha Banks e la trattengono volontariamente fuori dal ring portandola all'eliminazione per Cantout un'altra scelta non coraggiosa volevi far vincere Raw avevi già deciso che avrebbe vinto Raw e quindi volevi preservare lo status di Sasha beh se mi fai queste cose se trovi questi escamotage questi espedienti fai male fai male fai arrabbiare la tua platea è un continuo rimando a un qualcosa che accadrà un'altra volta ma io sono qui e ora voglio vedere adesso ti sei messo da solo in un vicolo cieco e poi devi trovare queste cose qua che non piacciono a nessuno quindi il Cantout riparatorio della reputazione l'abbiamo avuto nello show nel match 5 contro 5 di Raw e adesso anche a Smackdown ma cosa ancora più incredibile rimangono in 3 contro 1 Bianca Belair sembra la frutta e invece le batte tutte e 3 batte le 3 rimaste di Smackdown tipo in 5 minuti pim pum pam come se niente fosse e poi festeggia nel ring cosa ci dice questa vittoria beh ci dice che a Raw non c'è probabilmente nessun'altra oltre a lei che può anche solo lontanamente avvicinarsi al clamore del personaggio di Becky Lynch e quindi serviva un rilancio in pompa magna per Bianca Belair perché un domani si tornerà o tornerà ad affrontare la campionessa sempre che due drop non le sbarri prima la strada perché c'è anche questa eventualità qual è la situazione migliore per WWE fronte Raw per quanto non sia la migliore in assoluto probabilmente un ritorno di Ronda Rousey per una rivincita con Becky Lynch a Vestelmania e Bianca Belair potrebbe essere un'avversaria di transizione lei insieme a Liv Morgan da qui ad allora altrimenti Raw non vedo davvero chi possa salire di 10 gradini per andare a combattere ad armi pari con la mitica Becky questa vittoria sembra essere anche non dico uno schiaffo a Liv Morgan ma una piccola retrocessione perché insomma ci si aspettava una sua prestazione più convincente ma anche stavolta questo non è accaduto il match è stato pieno di imprecisioni di errori di gente che guarda platealmente quello che succede o si volta e non aiuta la compagna che sta sotto schienamento a me dà l'idea che molte delle ragazze presenti abbiano fatto fatica a tenere a mente le sequenze le mosse o che si siano fatte prendere un po' dalla situazione o magari anche dall'emozione però è stato scritto molto male questo questo incontro narrativamente non porta niente di rilevante e poi ci sono questi count out che a me non piacciono proprio praticamente una novità di storyline arriva nel backstage quando Paul Heyman viene informato che si dice che la sospensione di Brock Lesnar non si sa perché sia stata sollevata e quindi Brock Lesnar potrebbe tornare a farsi vedere da un momento all'altro noi sappiamo che ha comprato un teorico biglietto di prima fila per uno show di Smackdown imminente fra un paio di puntate magari WWE velocizzerà il suo rientro negli show stiamo a vedere però almeno qui c'è uno sviluppo c'è uno sviluppo che mi dice qualcosa andiamo al main event qui sono curioso di sapere se vi è piaciuto più questo o più il match tra Charlotte e Becky Lynch ora questo è stato un incontro secondo me interessante nel quale Big E finalmente ha disputato un match serio e drammatico che è quello che gli mancava abbiamo avuto poco Big E il gigione e molto di più Big E il lottatore anche qua c'è stato il rimando a The Rock tutti gli altri non ve li ho citati ma avete visto anche voi i trailer i pezzi i 25 anni di The Rock qui c'è stata la Rock Bottom di Roman Reigns ad un certo punto a livello di storytelling Big E si è infortunato la gamba sinistra all'inizio del match non ha fatto un selling particolarmente brillante ha provato a vincere anche di sottomissione eccola qua l'immagine della Rock Bottom in fase di caricamento poi però questo selling al ginocchio è uscito nuovamente intanto questa è una sequenza forse una delle più belle Roman Reigns colpisce Big E con tre Superman Punch si prepara per la Spear fa il suo urlo e Big E è in piedi e gli sbarra la strada questa è stata una grandiosa resistenza umana di Big E che ha fatto vedere delle fibre come vi dicevo prima sin qui nascoste quindi mi è piaciuto mi è piaciuto proprio il vigore di Big E che dice oh non sono un pagliaccio e se vuoi buttarmi giù ce ne vuole Roman ha provato anche la ghigliottina Samoana a un certo punto poi però ha ributtato Big E contro se non sbaglio i gradoni d'acciaio e eccola qua la ghigliottina e ne ha approfittato perché Big E indebolito la gamba non è riuscito poi a chiudere la Big Ending vincente quella che abbiamo visto qua in foto è un'altra Big Ending che arriva prima ma se non ricordo male con Big E che è troppo vicino alle corde Roman Reigns si salva mettendo il piede sopra una di S poi Big E ci riprova con la Big Ending ma si è infortunato più seriamente alla gamba quindi l'appoggio è meno stabile Roman Reigns si libera lo trafigge con la Spear e vince questa è l'immagine finale dell'evento un evento che ha vinto Raw visto che io non ho guardato il pre-show e non so se il risultato di Nakamura contro Damien Priest verrà in qualche modo ufficializzato nello score ad ogni modo attenendoci soltanto alla main card Raw ha vinto tutti i match tranne il main event tranne quello sui campioni singoli quindi venendo dal cappotto dello scorso anno mantiene la sua superiorità come brand ma non non ha più la superiorità per quanto riguarda il campione più importante show in generale scarso scarso ma ripeto scarso perché le premesse di questi 5 contro 5 o di brand superiore all'altro hanno fatto il loro tempo scarso perché le belle storie che erano state scritte in realtà sono state o degli escamotage per non fare eliminare per schienamento o sottomissione qualcuno oppure sono state in discreta parte accantonate scarso perché nel match maschile due superpotenze le butti fuori lavandote nelle mani scarso perché il match femminile è stato in alcuni tratti non dico disastroso però abbastanza deludente scarso perché anche negli incontri passabili la battle royale o gli usos contro gli archi bro hai avuto al massimo o qualcosa che vedi tutte le settimane oppure un altro tentativo di marchetta che è lì sopra la tua testa e inserendoci dentro tutta questa pubblicità per il film di the rock su netflix alla fine ti chiedi boh cosa ho visto ho visto un lungo infomercial oppure ho visto un buon evento di wrestling io temo che molti alla fine diranno che hanno visto un buon infomercial fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente con educazione e ditemi la vostra qui sotto nei commenti a qui a qui Grazie.